Ora è ufficiale, il Palazzo dello Sport di Trento cambia nome, non si chiama più Palatrento ma BLM Group Arena. L'insegna è già ben visibile dall'inizio di marzo. Presenti questa mattina nella struttura sportiva i vertici del nuovo sponsor e quelli di Trentino Volley e Aquila Basket. Il nuovo sponsor BLM Group, che opera a livello nazionale e internazionale, ha un fatturato da 290 milioni di euro e conta 600 dipendenti, produce tra l'altro macchine utensili. Due stabilimenti in Trentino in cui lavorano 250 operai, la casa madre è a Levico.